Rifornivano di marijuana e cocaina giovani e giovanissimi della bassa Vale Camonica e dell'Alto Sebino e siccome gli affari andavano bene hanno cercato di allargare il giro e di importare direttamente la roba per abbassarne il costo all'ingrosso e guadagnare di più. A stroncare i traffici di una gang di spacciatori Camuno Sebino e i carabinieri della compagnia di Breno che dopo mesi di indagini coordinate dalla dottoressa Benedetta Callea della procura di Brescia questo sabato mattina all'alba hanno eseguito 12 misure cautelari a carico di altrettanti indagati, 11 italiani e un tunisino responsabili a vario titolo di produzione, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e marijuana. L'operazione denominata Monte Campione perché ha preso le mosse proprio da un fermo nella nota località montana di un giovane galoppino durante la prima fase di lockdown che ha visto all'opera 50 carabinieri del comando provinciale di Brescia un'unità cinofila di orio al serio è scattata all'alba da Breno ed ha interessato i territori della Valle Camonica e della provincia di Bergamo. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre due etti e mezzo di droga tra hashish e marijuana e 6.000 euro in contanti. Numerosi clienti, molti di questi giovanissimi come alcuni dei pusher che proprio per questo potevano avvicinare con più facilità gli acquirenti che i militari hanno identificato. Le indagini meticolose degli uomini del capitano Filiberto Rosano hanno permesso di ricostruire i traffici della banda che era riuscita a creare durante la prima fase del lockdown una fiorente attività di spaccio che riforniva le locali piazze della bassa Valle Camonica e del Sebino. Oltre ai giovani galoppini, lo stesso capo dell'organizzazione, mentre si spostava per lavoro, si dava da fare per rifornire le piazze. Gli indagati, dopo aver acquisito un buon numero di clienti fidelizzati, tra i quali diversi giovani poco più che maggiorenni, ed aver incrementato il loro giro d'affari, avevano alzato il tiro e per aumentare i loro facili guadagni avevano avviato dei concreti contatti per far giungere la marijuana direttamente dalla Spagna a prezzi più vantaggiosi. A far saltare il progetto, l'intervento dei carabinieri di Breno che lo scorso 7 agosto hanno assestato un primo duro colpo al gruppo criminale, con l'arresto in flagranza di reato di sette persone, cinque di queste di un unico nucleo familiare della bassa Valle Camonica, ed il sequestro di quattro serie di marijuana, oltre a quasi 5 kg di erba. Per il capo dell'organizzazione, che aveva soldato una serie di galoppini, fra questi, oltre ad alcuni giovani, fra i 18 e i 19 anni, anche la compagna e i due figli della donna, questa mattina si sono aperte le porte del carcere. Agli arresti domiciliari sono finiti invece un quarantenne di Borno, un ventotenne di Esine, una sessantenne di Attonio e un ventenne di Pianconio. Sono stati arrestati nell'ambito della stessa indagine in esecuzione di un decreto di arresto ritardato emesso dal pubblico ministero, un ventunenne di Chioduno, un diciannovenne di Casazza e una diciannovenne di Sovere.